Sì, io sono uno degli architetti che fanno i plastici di Bruno Vespa, non è facile per me raccontare questa storia perché la prendiamo molto sotto pressione e sì, siamo una squadra, siamo 6-7 persone per la precisione, siamo 6 architetti e un ex presentatore televisivo. Come un ex presentatore televisivo in che senso? Eh sì, praticamente c'è questo ex presentatore televisivo che ha avuto la sfortuna nella sua vita di stare insieme a una subretta straniera che poi si è messa con un parente stretto, un presidente del consiglio e quindi per condizione il presentatore è stato sbattuto qui in questo stanzione a fare i plastici di Vespa. Scusi ma sto parlando di Giorgio Mastrota per caso? Ecco, vorrei evitare di fare nomi perché insomma capisce che è una situazione delicata. È difficile fare i plastici per Bruno Vespa? Beh sì, consideri che quando mia madre l'ha scoperto mi hanno buttato fuori di casa, insomma i miei amici mi hanno insultato, beh è una cosa che è moralmente ritrovevole. Io sono un intervistatore e non sa mai dare giudizi, ma insomma perché allora fa questo lavoro e non fa un lavoro di architetto come tutti gli altri? Beh capisce che io ho 30 anni, sono precario, tutti gli altri precari alla mia vita fanno modellini per anni e anni prima che hanno studiato gli affidi, qualcosa di più serio. Io sono stato un po' ingrannato dalla mia voglia di entrare nel dorato mondo dello spettacolo. Quando ho ricevuto questa offerta di lavoro ho pensato subito, non l'avete sperato un po' il mio minuto, porta a porta, lo seguivo tutte le sere. Io ho una libreria piena dei libri di Paolo Perretti e poi che dire, Alba Parietti è stato il mio sogno erotico della prima adolescenza, di tutte le prime eiaculazioni che ho fatte pensato ad Alba Parietti. Quindi ho pensato che poteva essere un modo per entrare veramente nel mondo dello spettacolo dalla porta principale, ma non ne sono pentito. E cosa ne è pentito? Perché se ne è pentito? Beh, a parte per il discorso morale, poi cerca di dire che Bruno Vespa ci sfrutta, ci fa lavorare 24 ore al giorno, lui comunque per sicurezza, anche se poi cambia l'idea all'ultimo minuto, ci fa fare un plastico per ogni fatto di cronaca di cui parla al suo programma, quindi consiglio che dobbiamo fare almeno 12-12 plastici al giorno, non è facile lavorare 24 ore su 24. Senta Cilica, ci dica almeno un retroscena, un aneddoto, anche un aneddoto non per forza divertente, ma insomma qualcosa di questo lavoro che fa e di Bruno Vespa. Beh, ho stampato ancora in mente una cosa tremenda che ho visto con i miei stessi occhi, e con la sera stavo rientrando alle 23 di sera per fare l'ultimo modellino della giornata e nello studio ho trovato, scusate per me, un po' difficile dirlo comunque, Bruno Vespa che stava, insomma stava facendo violenza su un modellino della Casa di Cogna. Come su un modellino della Casa di Cogna? In che senso è violenza? Si spieghi meglio? Eh si, come dire, insomma, Bruno Vespa si era introdotto, diciamo così, dentro la Casa attraverso la porta di servizio, è stato tremendo, non mi ci faccio pensare. Capisco, deve essere stata qualcosa veramente di agghiacciante. Senta le faccio l'ultima domanda, su che modellino sta lavorando in questo momento? Ma in questo momento stiamo lavorando su un modellino che probabilmente ci tornerà utile a breve, ed è il modellino della sede del Partito Democratico. Ah, capisco, quindi si prevede un delitto anche lì? Più che è un delitto direi proprio un ecatondo.